E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E sono Sefe, che si gioca a Fortnite E benvenuti in uno prossimo episodio di Fortnite E oggi giocheremo in modo un po' particolare Spieghi tu o spiego io, Fere? No, spiega tu, perché non tanto mi dimentico la metà delle cose Allora, praticamente, non so se lo sapete, ma c'è un punto della mappa dove cade questo busto dove siamo in questo momento sopra Lì si trovano di solito una chest e qualche oggettino La sfida di oggi sarà questa Andremo lì, prenderemo tutto quello che troviamo in quel punto Dopodiché noi potremo luttare soltanto le persone che ammazziamo Non potremo luttare da nessun'altra parte in nessun altro modo Potremo luttare soltanto i cadaveri altrui Quindi è una sfida davvero complicata perché in quel busto si può trovare di tutto Potremmo trovare soltanto una pistola e ci dovremo arrangiare così È una sfida molto difficile, la chiamiamo la bust challenge Sì, mi piace, mi piace Mi sembra la cosa più semplice possibile Lo vedi qua dall'alto, Fere, mentre ci stiamo buttando? E lì blu in mezzo alla montagna si vede facilmente Che poi non è proprio quello in cui siamo perché è già caduto Beh, sì, vabbè Sì, allora il modo figurato è quello in cui siamo, ok? Il modo figurato Hai rovinato il momento Ma non è vero Hai rovinato Guarda, era ancora in cielo ed è già qui schiantato, Steph O viviamo in un altro spazio temporale o in un modo figurato No, ha fatto, boom, ha rimbalzato Sì, ok, ok Vedo un forz... Oh, oh, oh Oh, cosa? Fere, ci sono due forzieri e due pistole È una bella cosa Io la pistola me la prendo A me questa pistola piace Oh, ma questo è un pompa Io me lo prendo lo stesso Il pompa è epico, così Bellissimo, bellissimo Poi medikit e mitralietta Ok Devi aprire la tua cesta, sta sopra il bus Eh, non ho materiali Come ci salgo? Perché non sei salita dietente sul bus, Fere? Perché ho visto quella cosa viola e pensavo qua con la sopra la prendessi tu Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Che ho fatto il ponte Vai, vai a vedere cosa trovi Grazie Io salgo per vedere perché sono curioso Come hai fatto? Non è successo niente Eccomi qua Ah, vabbè Mitralietta, granate Materiali, quindi niente di troppo bello Ok Niente di troppo bello Va bene, va bene, va bene Allora, sulle munizioni credo che comunque possiamo prenderle anche in giro, secondo me Dai, sì, le munizioni sì Cioè, perlomeno per le armi che abbiamo Io ti dico Scendiamo qui sotto, non lo so dove andiamo Eh, vorrei andare così perché questo posto fa sempre cadere Andiamo a Condotti Confusi a vedere se è sceso qualcuno Aspetta lei proprio che lutino tutto il posto Poi li ammattiamo In silenzio proprio in stelt Allora, mi metto anche Però scusamolo dovevi dire prima, Steph Perché? Mi sarei messa la mia skin da gente segreto E questo video l'avrei fatto un po' più immersivo, capisci? Vabbè, tanto prima o poi faremo la sfida con solo le pistole E lì da gente segreto sai che è fantastico E mi metto la skin da gente segreto tutta stelt Cioè, vedo una, due, vedo un sacco di chest Eh, che facciamo? Andiamo? No, non possiamo, non c'è nessuno, mi sa E noi non possiamo lutarle Ah, è vero che non possiamo Mi stavo già dimenticando Ti stai già dimenticando la sfida? Sì, no, mi stavo dimenticando che proprio non possiamo prendere neanche le cose qui attorno È solo quello, è solo quello Pinnacoli pendenti c'è gente Sì, sì, per cosa Dai andiamo a Pinnacoli pendenti Ammazziamo uno che ha lutato tutta la città E siamo a cavallo Mi è venuto in mente un quesito Allora, se noi troviamo il loot di un player già morto È venuto in mente anche a me E non ti so dare una risposta Perché tu hai detto che dobbiamo prenderlo dai player Cioè, anche se noi abbiamo ucciso noi Allora, ti dico la mia Bisogna imporre delle regole qui Personalmente Mi verrebbe da dire Eh, puoi prenderlo Ma una vera sfida no Secondo me no Io bare lo prendo No, Fere Perché dai, alla fine Che senso ha? Puoi avere fortuna Sono venuto a città E ti prendi tutto il lutto di gente morta Dai Così Sei fortuna Vale anche la fortuna Nelle challenge No, no, no Niente fortuna qua Sei troppo cattivo Però dovresti essere un po' più gentile Un po' più Ma sono cattivo anche per me stesso E mica Allora, questo Cosa c'è perché hai detto che comunque Proiettili possiamo Dimmi che non mi hanno visto Eh sì che li vedo Aspetta Ma io ho solo una mitraglietta Non posso sparare da qui Non è un pompa Scusami Eh, appunto Come li prendo da qui, Steph? Scendiamo piano piano Andiamo e li ammazziamo Ah, ok Tu lo dici tu Mi sembra logico Facile e veloce Stanno fightando, eh È il momento giusto Fere Dai che ce la facciamo È il momento pessimo Lo so Stanno fightando con quelli nel terrazzo Seguimi Mi stai seguendo? Sì, sono un po' lontana Quindi ho paura che mi vedano Spero di no Spero che siano talmente concentrati Nella loro battaglia Che non notino me Uno È forse così andata Aspetta Ok A terra Vieni via Ok Via via Sneaky Sneaky Ok è morto Ha dato a te la kill Quindi quello lo possiamo luttare Però ci ha provato a sparare Altra gente Ci tirano Granate Porca miseria Che poi l'ha finito qualcun altro Vero? No, tu hai la kill Io Allora l'ho buttato a terra Ma qualcuno l'ha finito Non sei stato tu Steph Ah sì vabbè Ma è ovvio che c'è gente che spara È quello che sto dicendo Quindi qui dietro sicuramente C'è già qualcun altro Perché hanno ucciso uno che stava già a terra Hanno ucciso l'uomo ragno Chi sia stato Non c'entra niente Steph Stai zitto Vieni Ci vieni a te Che delirio Eh c'è molta gente Ci sono almeno due team Credo Sì Non so quanti ne sono rimasti vivi Vedi? Eh sì Stanno ancora bullando E li sono lì eh Ok Ok seguimi Sì li vedo Li vedo Li vedo Come se li vedo Ok Li vedi? Sì Andiamo Vai Uno eliminato Ok a posto Prendiamoci tutto il loot Ora sì che c'è del bel loot Guarda Steph Il fucile a pompa viola E anche lo scar Fere Io ho paura in questo momento Devo dirti la verità Perché sta andando tutto troppo bene Secondo me viene qualcuno e ci ammazza Certo che viene qualcuno e ci ammazza Vero Mi sembra ovvio Mi sembra ovvio Steph Ok Fucile Il fucile a pompa Li hai buttato di proposito Quello bello No ce n'è un altro Ce n'è un altro viola Quindi prenditelo Te lo ho detto Ah vabbè io ce l'ho già Fere Ah ok Avevamo trovato fin da subito Entrambi quello viola Ah pensavo di averlo trovato Solo io Un po' di scinti potevano averlo O tu l'hai trovato? Sì li vuoi? Eh sì Li vuoi Però aspetta Ci allontaniamo un attimo Sì andiamo a prendere anche l'altro loot Che comunque ci spetta Ehm Ci spetta di diritto Guarda questa cesta Mi viene da piangere Posso solo aprirla per vedere cosa c'è? Vai Quello ci sta Ok vieni via Ok basta Non ho preso neanche le munizioni Mi sono comportata bene Neanche le munizioni ho preso Allora mi devo sistemare Facciamo così Così e così Beh stiamo andando benissimo eh Anche perché hai visto che ho trovato io Che cosa? Scarviola Cosa? Non mi hai sentito quando l'ho detto No Ho fatto un bello scarviola Con ben 188 188 riesco a dirlo colpi Quindi va bene Ok ma siamo a cavallo allora Ci manca solo il cecchino che era qua Eccolo qua Ok perfetto perfetto Questo è quello che avevamo ammazzato prima Perché se vedete Qui c'erano le scale da cui lui è morto Come è caduto Ha fatto E ha fatto cadere il cecchino da questo lato E comunque se vi ricordate aveva il cecchino in mano Quindi è tutto in regola Allora A questo punto Andiamo di nuovo dentro la zona Stiamo attentissimi Perché sono sicuro che ho sentito Sparare altre gente in questa stessa città Sì anche io Mi è sembrato di sentire degli spari Quindi stiamo attenti Perché non voglio sprecare la boost challenge Siamo rimasti in 32 vivi Tu hai due kill E io ne ho una Quindi siamo già comunque a tre kill Partendo dal loot Soltanto di un piccolo posticino E adesso Si inizia a far su serio Ora viene la parte difficile Perché quando sei povero È facile giocartela Non hai paura Perché tanto sai che non perdi nulla Se muori Eh invece adesso iniziamo ad avere belle cose Ora abbiamo un valore Ora abbiamo un valore Proprio importante Di quelli tosti Mi sa che facciamo un po' di scale Non ho molti materiali Tu? No un pochino Non ne avevano troppo Beh perché erano in città Non eccessivamente La gente in città Non fa troppi materiali Giustamente Ci sta Ci sta Non mi sorprendi in effetti Ok allora Prendo un attimo le cose qua Prendo un po' di materiali qui E continuiamo a correre Ok c'è già la nuova zona Fere E siamo di nuovo parecchio lontani Sto giusto prendendo un pochino di materiali Ok Ok beh dai Non siamo neanche troppissimo lontani No neanche troppo 28 player In quella montagna Se vedi ci sono delle scale Ma sembra che ci siano da tanto tempo Sì non mi sembra Però sono un po' danneggiate Quindi qualcuno li aveva sparati in quel momento Quindi comunque sinonimo Che in questa zona C'è da parecchia gente Siamo matto vicini A Salty Springs Ok Quasi converebbe passare alla sinistra Di questa città vero? Sì Sì dai 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 Che siamo anche auto zone Non ha senso prenderci questo rischio Allora mi sto guardando anche dietro Se magari arriva piano piano qualcuno Mi sembra di no Corriamo Hai sentito? No Hanno sparato Come fai non sentire? Non lo so Di fronte a noi Uh eccoli Aspetta Ok Ma dai Che triste Beh si stava curando Era solo fermo lì Però aspetta stava sparando a qualcuno No si stava curando soprattutto lui Ah ok Però qualcuno l'ha sparato Perché io l'ho preso che era proprio immobile Allora mi prendo le sue bende Un po' di munizioni Ok mi ha aumentato i colpi del fucile a cechino Grazie mille amico Non aveva nulla di utile però porca miseria Cos'hai buttato tu fare? Niente Cos'è quella roba blu? Non lo so non era mia Ah la mitraglietta Non era mia Sbrillucica in modo strano Sembrava qualcosa di più bello No io ho preso solo un po' di munizioni ancora di più per lo scarco Ok Ok Quanto ne hai? 220 quindi sono a posto Perfetto 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 Siamo rimasti in 27 con 4 kill con la boost challenge Sta andando abbastanza bene Però ora secondo me siamo nella parte un po' più delicata Perché qui potresti trovare player un po' ovunque Ti possono fregare all'improvviso e rovinare tutto Quindi stiamo molto attenti Occhi aperti Guardiamoci intorno Fere guarda tutto intorno Mi guarda intorno Seve di gente avvisa Anche perché poi non abbiamo mai scoperto chi ha sparato quel colpo che ho sentito Esatto Ed era abbastanza vicino secondo me Non era troppo lontano Quindi dobbiamo stare di quelli super mega attenti che guardano tutto In questa cittadina Se vogliamo chiamarla cittadina che poi non è Non mi sembra ci sia gente Oh anch'io non vedo movimento ti dico la verità Non lo vedo proprio Sono indeciso Se fermarci in un punto Dato che siamo dentro la zona è bullare Che potrebbe essere una buona idea Asco facciamoci una piccola struttura a testa Ok Mettiamoci abbastanza vicini Per ora stiamo un pochino dentro Aspetta non mi chiudere dentro No ma non voglio stare con te E ti ho detto non mi chiudere dentro Perché stavo andando a farmi la mia struttura E tu mi stavi costruendo i muri attorno Fere Porca miseria Giù 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 Sembra da ovest Ok Da ovest da ovest Cavolo Ah eccoli dietro quell'albero maledetti Ok E li vedo si Quanti sono? Gli ho dato un colpo Sono due Ok Allora vediamo se riesco Aspetta un attimo Ho delle granate Prova a tirargliele Stavano fightando con qualcun altro Fere Ok Stavano fightando con qualcun altro Occhio eh Perché siamo anche esposti Guardate ogni tanto almeno intorno Stai attenta Ho paurissima Non capisco con chi fightano Però sembra dietro di noi Tipo alla loro destra Perché li ho visti girarsi E darci spesso le spalle Capito? Più giù della foresta Esatto Giusto Sì 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 Sembra lì Sì 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 Hanno killato qualcuno E secondo me in questo momento Stanno lutando qualcuno Perché non li vedo più Sì 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 No neanche io li vedo più Aia Farai dietro di noi Dove? Arriva Eccoli 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 Che faccio? Aspetta Ti salgono addosso Sì ma io in realtà sono giù Eh sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Ti è arrivato addosso a te? Sì 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 Siamo mosti meglio Dove cavolo è finito poi? Penso dentro Dentro la mia costruzione Non lo so Non lo vedo più Ok Ok Forse c'è la No Lo volevo No no io volevo soltanto Final killare lui Per rovinargli il game Perché se lo meritano Ma comunque li stanno massacrando Eravamo proprio in mezzo A una di quelle battaglie incredibili Sì siamo capitati male Ci sta vabbè Top 20 Con 4 kill totali Comunque abbiamo fightato bene Quindi ci sta Dimmi che muore Fatmelo vedere schiattare Proprio in questo momento Ora mentre provo a curarla No Peccato Peccato Se qualcuno lo vuole sniperare Posso solo ringraziare Esatto Se volete proprio No Va bene Ragazzi lasciateci un like Questa è la prima volta Questo nostro video Potete considerare Iscrivetevi per non farvi Gli altri visioni Ciao Alla prossima Ciao Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima